Linda Riverditi, la rivelazione di X Factor, ho sempre un rapporto malato col mio corpo esclusivo. Linda Riverditi, 19 anni, di Alba, è la rivelazione di questa edizione di X Factor. Al settimanale Oggi in edicola racconta la sua adolescenza, tutt'altro che spensierata. Il mio rapporto con la scuola è stato tragico e mi ha creato tanta ansia. Non sono mai andata a genio ai professori. Mai capito il perché, dice video un video due. Tutto, ma proprio tutto, su X Factor guarda. La cover di Oggi in edicola. Ho una ragazza da due anni anche il rapporto con il suo corpo è sempre stato tormentato. Ho passato un brutto periodo in cui ho preso 12 kg in un mese, continuo Linda Riverditi al settimanale Oggi in edicola. Poi l'estate successiva ne ho persi 10, poi io li ho ripresi, poi persi di nuovo. Tutt'ora non mi vedo bene. I suoi tormenti finiscono nelle canzoni che compone, riesco a scrivere solo quando sto male. Dice. Ma non riesce a parlare d'amore. Ho una ragazza da due anni, ma non riesco a scrivere di lei. Devo affinare la mia scrittura per parlare di cose così intime. Non ho voglia di buttare lì due parole e fare la solita canzoncina d'amore. Del suo look dice, non mi vedrete mai con una minigonna o con i tacchi. Lo stile femminile nel vestire non lo sento mio. Non lo trovo comodo. Preferisco vestire così, con maglietta, camicia e pantaloni. L'intervista integrale è su oggi in edicola.